Torni a scuola dalle vacanze. Che palle ho, io volevo dormire. All'elementari. Eccoci ragazzi, finalmente siamo tornati tutti quanti a scuola. Ma che palle ho! No, dai che palle! Vabbè ragazzi, parlatemi un po' delle vostre vacanze. Sì, sì, vai così perdiamo l'ora. E poi, boh, potremmo iniziare con matematica? Ma va a cagare! Alle medie! Ok ragazzi, vi siete divertiti, vi siete riposati. Ma adesso siamo tornati a scuola. Che palle ho, io volevo dormire, cazzo. Prof, posso dormire contro il muro? Vabbè ragazzi, potremmo iniziare con... Boh, matematica? Oh, e basta, ancora matematica. Mamma mia che ansia ho! Alle superiori! Ok ragazzi, veloce. Dobbiamo subito partire con matematica perché siamo indietro con il programma. Ma come prof, siamo appena arrivati! Sì, ma siamo ancora indietro col programma perché siete ancora tutti quanti dei somari. Oh, che palle, qualcuno lo può spegnere. Se ti è piaciuto il video, iscriviti e lascia like. Ciao, agio!